Bella a tutti da Porkmods, eccoci qua in questo nuovo LTS, questo LTS è stato creato da Mods Jovix Eppure in attività al signorino Jovix dopo 300.000 anni, dove sta? Ce l'abbiamo contro regà, andiamo Allora, LTS antico? Accettiamo? Accettiamo Javi, vieni qua Javi Ok, guardate, rimettiamoci bene, Brutus contro Strider Chi è che sta a fare i giravolte, Alexius? Allora, prima attività del giorno, regà, pure pizzicata la zanzara Salutiamo il rossero grandissimo Oh sì, sì sui, t'ho preso No, è sopravvissuto regà Se rimanevo là sopra facevo la strage Bella zio floppy, mettiamo la visuale vicina Oggi regà fa un caldo Un caldo a luce, i freni Ok, aspettate Ma io so cosa posso fare zio floppy, lo sai? Nooo Sì, è caduto, è caduto Oh Casco io, aspettate Ok, mettiamoci qua Basta miniature Vai avanti Vai avanti Vai avanti Vai avanti Che si spara i gestacci fatte Pluto Senti, ma io li vorrei affrontare in un'altra maniera, se permetti, eh No Io Cosa devo dire regà ogni volta? Cosa? Non era così alto Guardate Mi stava a DRT Scendevo giù Facevo un bel pugilato Facevo la strage Ho trollati al primo round Ho trollati all'ultimo round Ho trollati in tutti i round Regà, ogni volta è così Guardate quanta gente che c'è Ora si metteranno tutti qua regà A fare la strage Sicuro Sicuro regà Dario, come è fatto a fare quel volo? Ma Che gli è successo? Abbiamo vinto regà Round vincitore Prossimo round Ok, secondo round Adesso sono cavoli nostri Perché abbiamo la strider Però La cosa positiva è che abbiamo vinto regà Non c'è un modo vero per Per fare qualcosa di cittoso Non credo, eh Oh, che cadiamo Cadiamo sui Cori, corri, corri Allora Ecco Già qualcuno si è messo là regà Bella notizia Io non so se conviene a piedi Proviamo a piedi Secondo me conviene di più a piedi Andiamo a piedi sui Andiamo a piedi regà Che va più veloce Una che ha prima la ma la posso sparare Sì Ok, scendevo No, sui Ma io ci voglio credere Sto personaggio oggi Che c'ha regà Cosa c'ha? Io ho saltato per saltare lì Non ha saltato Gostiamoci questo fuggilato Questo è un lisciato regà Che nessuno si colpisce Guardali Regà C'è qualcosa che non va in questo fuggilato C'è qualcosa che non va in questo fuggilato Puoi stare pure lì Giusevsky Nessuno ti colpisce È vivo ragazzo Io credo Ecco Qua ti colpiscono Ok regà Terzo round Allora Non posso scavalcare Da lì Ha messo le armi Forse ha bloccati Non so se ha bloccati i veicoli Regà Andiamo a vedere Ci stanno solo granate Questa è la cosa Altamente strana Ban per darkness Lo prenderemo in considerazione Qualcuno si è messo a larga Prima che arrivano tutti loro No 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 Lexus Sì zio floppy Sì Venite venite regà Venite qua Vieni zio floppy Vieni Vieni qua Vieni qua che non succede niente La stanno a provare città Sì sì Andate Oh regà Ok ok siamo qui Che fuggilato dammi È 1v1 Si fa fuggilato Aspettate Fabri 18 Caduto Sono caduti regà Io ritento il cheat Ah se non toccavamo Bello lento Sto veicolo Con la stridere Possiamo cittare Regà Credo Se Capri Riuscite a cittare Non ci voglio credi No regà Ha cittato Non so come abbia fatto Regà C'è l'anticit C'è l'anticit Vero È lontanissima Mi dispiace Capri Quindi solo con la moto Si può andare lì Si Solo con la moto Regà Aspettate eh No Allora che possiamo fare Cosa possiamo fare Di ballo regà Cittare non si può Senza moto Provo la rincorsa Incredibile Cabri 18 Sì sì Oh Suei Chi è Vorrei sapere Chi è stato Era blu Chi è Chi è Chi è Chi è Chi è Eh ma Ma io dico Dove guardi Quando salti Allora Rimettiamoci là Di ballo 18 Non c'è più Sì C'è C'è Ah Non ti preoccupare Ma allora Le scuse Sono accettate Sui Sono accettate No Perché da questa parte No Cabri 18 No Se metti il furgone là Riusciamo a saltare Aspettate Scendiamo in tranquillità Una paura Speriamo che su GTA 6 Si comportano meglio i personaggi No 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 Non salta Andiamo a vedere Cioè Nemmeno sale Eh Non ce la faremo mai Senza Motocicletta Riga E altamente Impossibile Da Voglio salire Per favore Abbiamo vinto Abbiamo vinto Riga Round vincitore Prossimo round Allora Riga Da quello che ho capito Dobbiamo andare Super mega veloci All'inizio Con questa Strider Perché se loro Poi si mettono Dall'altra parte Siamo nei guai Quindi Saliamo subito Velocemente Velocemente Portiamo proprio 2000 2000 2000 2000 Lexus Scusami sui No I freni Giovi I freni Questi sono già arrivati Questi sono già arrivati Questi sono già arrivati Bene Riga Ci ho provato Ad andare super veloce Ok Quinto round Allora Nessuna riataliarmi Questa è una consolazione Siamo tutti trollati Questa è un'altra consolazione Io però vorrei spararmi Qualche piccola kill Perlomeno Riga Rompere un po' Le scatole A qualcuno Aspettate Oh no scusami Xboy Aspetta Ma Gabri 18 Come fa a stare qui Come ha fatto Gabri 18 Non si citta Gabri 18 Ci voglio Crede Ce l'ha fatta Sta Ah no no Pensavo che stava su Riga Saluta le barre Ero convinto Che stava sul Triciclo Aspettate Quanto sei lento Brutus No riga Ma queste arrivano Le armi No Ok Ok Abbiamo fatto Gioco di squadra Allora Qua è un nascondino Presto Presto Un bel nascondino Su gts Un bel nascondino Dai veloce Bella che scivola pure Un mozjovix Il creator No L'hanno schiacciato Eh Sentite riga Qua ci rimane solamente Questo Poi una volta che ci rimane questo Li andiamo ad affrontare riga Sono arrivano alle armi Aiuto De che Oddio Che sta andando a combina Ok Ok L'ho buttato giù io Riga Cugilato Dammi Oh mio Oh Oh Adami Adami Via qua Dov'è Stai No Non si scappa Dammi Non si scappa Dammi Guardalo Come l'ha attaccato meglio Sì 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 Dammi Arzati dammi Arzati dammi Arzati su No no Non può vincere il pugilato Dopo che cade lui Non può vincere Non può vincere Non può vincere No 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 Manca pochissimo Sì Sì Au Ma che sta sneccando Come Riga Quanta vita aveva Ok Sesto round Riga Comunque il pugilato Di poco fa O ha sneccato Si è allontanato Per sneccare E ora Non lo so se Come si sneccava Riga Non mi ricordo più Allora Che possiamo fare Missione impossibile Zitti 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 Io tento Riga Perché tanto è inutile Tentare il libro Ora Che dammi Dillo che era Quello che desideravi Riga Cioè Una free kill Così bella Perché a me Non mi è mai capitata Nella mia vita Una kill Bellissima Qua sono tutti Incastrati Allora abbiamo capito Che questa strider Guardali Che erano quasi riusciti A citare Quelli Quasi riusciti Riga Allora vediamo un po' Perché qua si incastrano Sempre loro E' la cosa più complicata Ma chi Uno della loro squadra Ha colpito un altro Riga Non ci voglio credo Ok riga Ultimo round Se vinciamo questo Abbiamo vinto tutto Questo è l'LTS Più trollato Che abbia mai registrato Cioè Che sono rimasto trollato Riga Quindi io desidero Cortesemente Ma io Desidero Fare tipo Un trick Di quelli Strani Che faccio Una scivolata Nel qualcosa Io Io devo essere onesto Riga Questo È l'LTS Più belli Che abbiamo Ma registrato Come si sale Come si sale Come si sale Come si sale Prima che finisce L'ETS Come si sale Come si sale Come si sale Riga me l'hanno pacciato Sì Ciao sui Un pezzettino È salito Non si citta Io voglio Voglio le armi Riga Come si sale Vediamo No Zitti 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 Riga Mamma mia Siamo alle armi Cosa prendiamo Cosa prendiamo C'è solo cangiali Come faccio A vedere Ah ok No ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Darkness Riga Ma di solito Saria pure Se stavamo Davanti Via Esplodete al volo Darkness Ah Lui mi voleva consigliare Che era nemico Ok Mi aiuti Spoi Cortosamente Così moriote Le armi Così moriote le armi Riga Questa è la bella notizia Del round finale Più bello di GTA Che ci abbiamo messo 50 anni Per capire Come si saliva Io Mi ricordo Che si poteva salire pure Stando dritti Non per forza Lì indietro Niente bugilato No no Questa è mia Lasciatemi Le mie kill preziose Che è l'ultimo Dimmi che No Pluto va bene Lo stesso Va bene lo stesso Perché Ve lo dico io Perché Aspettate Devo anticipare Qui Oh Riga Qui Vai Abbiamo vinto Abbiamo vinto Riga Abbiamo vinto Tutto l'LTS Va bene così Partita vincitore Se vi è piaciuto L'LTS Di Giovi Antico Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella E noi ci becchiamo Ciao a tutti Ciao a tutti